Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, oggi una riunione plenaria dei sindaci per discutere di questa riforma degli enti locali che per usare un eufemismo ha suscitato più di una polemica. Sì, certo, ha suscitato molte polemiche a tal punto che il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi mercoledì 25, ha sostanzialmente bocciato all'unanimità, con un voto unanime di tutti i sindaci, anche di Cagliari, di Sassari, di Nuoro e di Oristano, il disegno di legge del Rio de Muro. Qual è la possibile proposta alternativa al disegno di legge all'esame del Consiglio regionale, se c'è? C'è un fatto di metodo innanzitutto. Il disegno di legge è andato avanti per mille ragioni senza l'effettivo coinvolgimento del territorio e senza l'effettivo coinvolgimento delle autonomie locali. Noi dobbiamo avere la potestà, il diritto, di scegliere quale tipo di organizzazione dare alle nostre comunità locali. Senza questa opzione non è possibile parlare di democrazia, non è possibile parlare di autonomie locali, non è possibile parlare di rispetto di principi fondamentali della nostra società civile. Per cui la prima proposta è quella di una sospensione del processo legislativo, per dar modo di elaborare delle proposte alternative. Non sono questioni semplici, sono questioni molto complesse, necessitano di tempo. Grazie.